Allora, eccoci a Fedagaggi, una camminata, possiamo dire noi Capatrì, come ti senti? Come ti senti? Stabile. Stabile? Ok. Lui si sente stabile. Un po' sonato. Un po' sonato, perché? Affamato. Ah, affamato. Però se si è mangiato un albero di arange, abbiamo rubato le arange, un albero in meno. I cani l'hanno assicutato, ok? Ora ci sono altri. Comunque, noi la nostra impresa l'abbiamo portata a termine. Come? Non ti sento. Dal produttore accontumatore. Dal produttore accontumatore. No, no, non ci puoi entrare. Meno male che il cancello è chiuso. Ma noi siamo amici. Va bene. Ok. Saluta Patrizio. Ciao.